In questo secondo intervento presenteremo invece alcune proposte pratiche che ci consentono di incrementare la stabilità colloidale e del colore dei vini rossi. Parleremo in particolare dei meccanismi che presiedono la stabilizzazione colloidale e delle macromolecole coinvolte e parleremo anche di freddo che fino a qualche anno fa è stata uno dei processi che venivano maggiormente utilizzati per ottenere anche la stabilità colloidale nei vini rossi. Parleremo infine di alcuni prodotti che consentono di incrementare questa stabilità in particolare la momurillonite che viene spesso usata nei vini bianchi ma vedremo come invece può essere molto utile utilizzata nei vini rossi e di alcuni colloidi protettori in particolare una manoproteina e una gomma arabica che ci possono dare una mano per ottenere o incrementare la stabilità colloidale. Per quel che riguarda gli attori coinvolti nel meccanismo di interazione colloidale nei vini rossi ne ha già parlato in modo molto esaustivo la professoressa Bosso quindi io ripeto solo quelle che sono le principali macromolecole coinvolte quindi le proteine i polifenoli di diversa natura e non ultimo anche i polisaccaridi che ovviamente possono essere di natura esogena oppure anche di natura endogena i polisaccaridi stessi del vino. Vediamo invece in questa diapositiva come il processo di refrigerazione che veniva tanto utilizzato negli anni passati come questo processo presenti degli aspetti positivi e degli aspetti negativi sicuramente era un processo efficace è un processo efficace che dà dei risultati duraturi soprattutto in termini di stabilizzazione dei tartrati per cui viene usato spesso a questo scopo ma anche di conseguente stabilizzazione del colore dei vini rossi. Nello stesso tempo però si tratta di una tecnica costosa e con l'avvento e l'attenzione sempre maggiore che adesso si volge alla sostenibilità si sono cercate delle modalità alternative di ottenere gli stessi effetti. In particolare si è anche cercato delle modalità alternative per evitare di avere il depreciamento organolettico e la perdita di colore soprattutto nei vini rossi che si verificava e si verifica tuttora spesso come conseguenza del trattamento a freddo. Quali sono le soluzioni alternative che abbiamo cercato di mettere a punto? In realtà ci sono due tipi di soluzioni alternative una coinvolge una momorillonite di ultima generazione absolute gold che ha la funzione di eliminare quelle parti che contribuiscono all'instabilità colloidale del vino oppure un'alternativa può essere quella di utilizzare dei colloidi protettori specifici di natura polisaccaridica quali fender color una specifica manoproteina ed elite una gomma arabica di origine Senegal di cui vi approfondiremo questo aspetto nelle diapositive successive. Partiamo ora con la bentonite. Dalcin produce bentonite da moltissimi anni e è uno dei maggiori produttori di bentonite per il campo enologico a livello europeo e mondiale. La produzione della bentonite comporta tutta una serie di processi e di step che partono dalla selezione della materia prima per arrivare al controllo qualità del prodotto finito e alle prove applicative sul vino. Ci sono però due momenti di particolare importanza durante il processo produttivo. Uno riguarda la purificazione per eliminare la maggior parte dei composti indesiderati che possono essere composti metallici che possono poi essere ceduti al vino piuttosto che impurezze mineralogiche o la presenza di eventuali inquinanti microbiologici. L'attivazione invece consiste sostanzialmente nell'introdurre all'interno delle lamelle di bentonite l'ione sodio che essendo molto solvatabile consente l'allontanarsi delle lamelle di bentonite stesse e quindi l'aumento della superficie specifica. Ma non è solo il modo o con che cosa si introduce il sodio nella bentonite importantissimi sono anche gli altri parametri chimico fisici che governano il processo in particolare l'attenzione al solvente, alla temperatura a cui avviene questa sostituzione e non ultimo anche alla capacità di micronizzare la bentonite e quindi di aumentare in un modo parallelo la superficie specifica attiva della stessa. In questo slide invece riporto dei lavori preliminari che erano stati fatti dall'Università di Piacenza nel 2015 sulle nostre bentoniti. In particolare era stato in questo grafico riportato il profilo di stabilità a diverse temperature di un vino Valpolicella. Praticamente questo vino era stato riscaldato a diverse temperature e ne era stata valutata l'incremento dell'assorbanza 540 nanometri quindi eventualmente un incremento di torbilità. Il profilo del vino non trattato è quello rappresentato dalla linea continua. Subito dopo c'è la linea del vino trattato con una bentonite calcica quindi poco attiva che è di poco al di sotto del vino non trattato. Le altre tre linee sono relative invece a vino che ha subito il trattamento con delle bentoniti sodiche che sono state attivate con modalità differenti e potete vedere chiaramente che la diversa modalità di attivazione per le bentoniti sodiche diverse può comportare anche delle differenze molto marcate a livello di stabilità colloidale del vino trattato. Tutte queste diciamo conoscenze preliminari ci hanno consentito di mettere a punto Absolute Gold. Si tratta di momorillonite micronizzata molto pura di grado alimentare ovviamente ma in cui l'attivazione avviene non solo attraverso l'introduzione e la sostituzione di ioni sodio ma anche grazie ad un processo esclusivo che ne consente di elevare la superficie attiva in modo molto evidente. Si tratta di una bentonite polvere ma ha la caratteristica di essere facilmente disperdibile e bagnabile senza la formazione di grumi. Vediamo però alcuni risultati che sono stati ottenuti su un vino Barbera trattato con diverse bentoniti. Innanzitutto nel grafico più a sinistra si può vedere come il vino sottoposto a un test di stabilità colloidale a freddo a 4 gradi per 48 ore ha subito un incremento di torbidità pari circa a 30 unità di torbidità. Il vino trattato con Absolute Gold invece ha subito un incremento di torbidità molto più contenuto al di sotto dei due NTU e questo si è verificato anche nel vino conservato dopo sei mesi e dopo dieci mesi. Un trattamento con una bentonite di tipo diverso non ha consentito di ottenere lo stesso risultato. A destra invece abbiamo lo shock test di cui ci parlava la professoressa Bosso che può simulare un trasporto ad esempio ad elevata temperatura. Anche in questo caso vediamo come l'incremento di torbidità del vino trattato con Absolute Gold è assolutamente irrilevante mentre non lo è quello del vino testimone o quello trattato con l'altra bentonite. Vediamo invece adesso come possono agire diversi colloidi a matrice anche polisaccaridica che possono svolgere un'azione protettiva nei confronti del colore dei vini rossi. Qui riporto un lavoro che è stato effettuato nel 2019 su un vino rosso Croatina Merlot e in particolare nell'asse delle ordinate è riportata la caduta dell'intensità colorante dopo raffreddamento a meno 4 gradi per sette giorni. Per il vino test abbiamo una perdita di colore di punti colore di circa 1,6. Le altre barre rappresentano la perdita di colore del vino addizionato di diversi coadiuvanti e diversi additivi. In particolare le barre verdi sono quelle relative al vino addizionato di diverse gomme arabiche. Come vedete la gomma arabica destro gira in realtà ha peggiorato la situazione mentre le gomme levogire o l'hanno mantenuta diciamo indifferente oppure l'hanno migliorata. I vini trattati invece con diverse carbosimetilcellulose di diversa natura hanno comunque avuto una perdita di colore più importante e questo già dalla letteratura conferma quello che già conoscevamo in letteratura. Interessante è anche vedere l'effetto di diverse manoproteine di natura diversa sempre da lievito ma con caratteristiche diverse e l'effetto che queste manoproteine hanno avuto su questo vino. In particolare possiamo vedere come l'effetto stabilizzante si sia verificato in particolare per un tipo di manoproteina la seconda di questa serie mentre le altre o hanno avuto poco non hanno avuto praticamente effetto. Parliamo adesso di manoproteine come ben si sa le manoproteine sono localizzate nella parete cellulare e hanno un comportamento colloidale nel vino e sono state studiate per incrementare in specifico la stabilità tartarica e proteica nei vini bianchi. Però parlare di manoproteine in genere non è cioè si può parlare di manoproteine essendo più specifici perché ovviamente non si tratta di un'unica molecola ma di un gruppo di molecole che possono essere differenti fra di loro per origine perché ceppi diversi possono dare manoproteine diverse e anche il metodo con cui vengono estratte queste manoproteine può dare risultati diversi soprattutto in termini di peso molecolare e anche di composizione. I maggiori sistemi di estrazione prevedono comunque di estrarle dalla parete di lievito per via enzimatica o attraverso l'impiego del calore. Ci focalizziamo adesso su una manoproteina particolare Fender Colon Color che è quella che abbiamo visto avere l'efficacia maggiore sia nel incrementare la stabilità colloidale che per quello che riguarda lo shock test come mostrato nei grafici di questa slide. Vediamo che un dosaggio di 20 grammi ettolitro riesce a mantenere l'incremento di torbidità dopo raffreddamento a 4 gradi per 48 ore al di sotto dei due NTU sia sul vino trattato appena dopo sottoposto al test di stabilità subito dopo l'imbottigliamento che dopo sei mesi che dopo 12 mesi cosa che non si verifica che non si verifica se il trattamento viene fatto con altre manoproteine. Lo stesso può dirsi del shock test dove anche qui utilizzando Fender Color possiamo notare un incremento di torbidità molto più contenuto rispetto al vino non addizionato di manoproteina di Fender Color. Ma che caratteristiche ha questo Fender Color? Qui ho riportato i pesi molecolari che possiamo riscontrare nelle diverse manoproteine che sono state estratte dal lievito o presenti nei vini. In genere quelle che conferiscono stabilità proteica e tartarica hanno un peso molecolare compreso fra i 30 e 40 chilo Dalton. Fender Color si colloca appena più avanti nel senso che ha una molecola leggermente più grossa con un peso molecolare un po' più alto. Nonostante questo però una volta aggiunto al vino abbiamo verificato che non tende ad aumentare l'indice di filtrabilità dopo aggiunta al vino né immediatamente dopo l'aggiunta né aspettando dopo dopo un giorno anche se ovviamente è sempre meglio verificare quello che può succedere all'interno di un vino rosso quando si aggiungono dei colloidi quindi va sempre la pena fare un controllo dell'indice di filtrabilità dopo l'aggiunta. Parliamo ora di gomma arabica. La gomma arabica è un polisaccaride naturale che appartiene alla famiglia degli arabino galattani. È caratterizzato dall'avere una struttura, un cuore proteico e poi avere delle ramificazioni di natura zuccherina. In natura ci sono principalmente due specie botaniche da cui si ricava la gomma arabica che sono la caccia senegal e la caccia seial. Si differenziano principalmente per il potere rotatorio, una destrogira, la seial, l'altra levogira. Ma è interessante notare come per la caccia senegal si abbia anche una percentuale di azoto e quindi di proteine maggiore a fronte comunque di una massa molecolare media più bassa. Infatti dal punto di vista della gomma originale la caccia seial ha un peso molecolare nettamente superiore. È interessante però vedere come ci sia anche una struttura diversa per i due tipi di gomme arabiche. In particolare la caccia seial di solito ha una struttura più compatta per cui ha quasi a parità di peso molecolare. Possiamo vedere come il raggio di girazione della caccia seial ha un picco aspetto alla senegal. Il raggio di girazione ci dà una indicazione sull'ingombro sterico della macromolecola. Questo vuol dire che la caccia seial è molto più compatta. La gomma levogira invece è molto più diciamo distesa e quindi occupa uno spazio maggiore. Il prodotto che abbiamo riscontrato avere le migliori caratteristiche dal punto di vista di stabilità del sistema colloidale nei vini rossi è Delit. Si tratta di una caccia Senegal in soluzione. Qui possiamo vedere l'effetto dell'aggiunta di Delit su un vino nel primo grafico quello sopra su un vino leggermente instabile dal punto di vista del colore che aveva una certa precipitazione di materia colorante dopo sosta meno 4 gradi per sei giorni. Il vino test è risultato con un precipitato mentre il vino addizionato di Delit non ha presentato lo stesso precipitato dopo raffreddamento quindi il vino è stato stabilizzato. Per quel che riguarda invece l'incremento di turbidità del vino o di indice di filtrabilità ci sono stati degli incrementi molto contenuti. Nel grafico più in basso invece è relativo a una prova analoga fatta però in un vino rosso con un'alta instabilità del colore. In questo caso abbiamo avuto con l'aggiunta di Delit una diminuzione della quantità di precipitato presente dopo raffreddamento ma non una stabilizzazione completa. La gomma destro gira invece ha avuto un'efficacia molto molto bassa. Da ricordare anche per Delit l'effetto organolettico soprattutto di attenuazione delle sensazioni di astringenza. Per concludere possiamo dire che allo stato delle attuali conoscenze in realtà ci sono delle indicazioni interessanti per incrementare la stabilità colloidale e del colore dei vini rossi anche senza far ricorso al freddo o facendone ricorso solo parzialmente. In particolare i prodotti più interessanti sono risultati la unamomorilonite absolute gold che consente di rimuovere le parti responsabili dell'instabilità colloidale mentre alcuni additivi come fender color una proteina ed elite una gomma in forma in soluzione di acacia senegal riescono a incrementare la stabilità colloidale del sistema e con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.